e benvenuti a tutti amici cripto curiosi meme coin ragazzi pepe brett shiba inu dogecoin quelle principali che stiamo vedendo vediamo anche brett ragazzi molto bene perché brett è stata una meme che ha performato a discapito degli altri asset meme diciamo ha seguito una sua strada ragazzi ha fatto dei game importanti ok anche se ad ora ha ritracciato il prezzo naturalmente ma come abbiamo visto anche su pepe shiba inu dogecoin riusciremo in diciamo in futuro nel breve più che altro ad uscire in tutta su tutta questa situazione qui che si è creata sulle principali meme coin effettivamente l'alt coin si sono ci sarà non ci sarà ragazzi questa è una domanda che si fanno un pochettino tutti e la risposta in tasca non ce l'ha nessuno naturalmente bisogna visionare effettivamente l'andamento soprattutto di bitcoin delle cripto valute in generale dei mercati e quant'altro ma andremo a vedere in questo video che cosa stanno facendo questi asset queste meme che a noi sono molto care ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like al video di iscrivervi al canale accendere la campanellina delle notifiche per i nuovi aggiornamenti ragazzi vi lascio i link in descrizione anche del canale telegram ufficiale venite dentro vi lascio anche il link di pepe un c'è questa meme che si presenta e prospetta diciamo la realizzazione di una block chain pepe ok in sostanza quindi in sostanza il ticker pepu è una presa il partita due tre giorni fa quindi nuovissima raccorta ad ora quasi 300 mila dollari naturalmente ragazzi attenzione a tutti i rischi associati alle pre sale ho fatto un video ieri se volete andarlo a visionare bene di quello che sto parlando andatevelo a vedere allora in sostanza ragazzi coin su crypto bubble vediamo asset che hanno continuato a perdere dei gain come avax ci spunta subito all'occhio avax ave with per quanto riguarda le meme però effettivamente quello che andremo a vedere noi oggi ragazzi riguardo pepe brett shiba inu e dogecoin la situazione un pochettino molto molto di stallo a parte pepe che comunque sia rispetto a shiba inu e dogecoin è riuscita a recuperare qualcosina allora partiamo subito con pepe ragazzi pepe avevamo superato vediamo qui il grafico su coin market cap settimanale eravamo riusciti a superare delle dei supporti importanti anche quelli oltre allo 0 virgola forse qualche giorno in più comunque si eravamo ecco comunque si ha ritestato le zone dello 0,00001 ad ora abbiamo questo incremento ragazzi questo gain che è riuscito a fare pepe ad ora stiamo vacillando sopra le soglie dello 0,000011 ok in sostanza ad ora stiamo lateralizzando il prezzo in questa fase qui nelle ultime 24 ore nemmeno 26,5 per cento sui volumi stiamo parlando di 621 milioni di dollari al dodicesimo posto per volumi di scambio market cap ventitresimo posto l'abbiamo visto in questi giorni andare a fare a switchare molte posizioni in market cap a flippare molte posizioni sulla market cap andando superare anche asset importanti ed ora siamo ritornati alla ventitresima posizione andiamo a vedere riguardo pepe ragazzi questo questa è la situazione di pepe eccoci qui allora pepe stiamo effettivamente testando ritestando superando questa soglia di ad ora supporto in questo momento dello 0,000011 e 3 in sostanza questa è la situazione quindi nelle giornate precedenti ha cercato naturalmente di andare a rompere al ribasso effettivamente arrivando anche a questa questo supporto molto critico degli oltre 0 passa oltre gli 0 1 in sostanza ecco qui vedete questo supporto importante che combacia anche con dei punti del precedente pattern e qui stiamo in un trend effettivamente negativo da molti giorni da quasi diciamo da più di due settimane dove il prezzo di pepe ai massimi storici ai minimi ha totalizzato un meno 43 per cento gain importanti perché naturalmente qui tutti anche qui hanno ripreso posizioni tutti si aspettavano un effettivo a bull run sulle art coin sulle sulle meme naturalmente ma questo effettivamente non c'è stato ad ora in queste giornate qui in questa settimana sembra che proprio c'è effettivamente questa super consolidazione del prezzo dove i prezzi sono stabili in questa fascia qui ragazzi e ad ora naturalmente si è formato anche un pattern interessante il quale tutti si aspettano che comunque sia il prezzo possa andare a rompere effettivamente questo pattern è andare a totalizzare nuovi oltre mai ok in sostanza questo è la situazione per pepe qui abbiamo volumi ragazzi chiusi in bike usi short short using by eccetera quindi anche i volumi non ci vanno a dire nulla di che stocastica ci ha dato qualche giorno fa un segnale buy ok siamo in zona di iper venduto quasi zona 27 barra 25 qui abbiamo un segnale in buy e ancora le due medie non si sono ricrociate quindi può darsi che ci sia se ci sia naturalmente questo pump sulle art coin sulle meme possiamo anche vedere potremo andare a vedere una situazione del genere sulla stocastica è quello che tutti ci aspettiamo comunque sia naturalmente qui ragazzi abbiamo delle soglie di supporto importanti da non valicare quindi in sostanza questo supporto ad ora è importantissimo stocastica zona 46 barra 47 zone di liquidità ragazzi per pepe le abbiamo sulle 24 ore zone molto importanti parliamo di un miliardo e 290 milioni un miliardo passa un altro miliardo e passa qui zona dello 0,11 e 8 ok quindi in sostanza queste zone qui naturalmente effettivamente dove sta lateralizzando il prezzo al ribasso non abbiamo grosse zone di liquidità anche se comunque sia qui naturalmente sembra che sta andando a pescare questa liquidità qui nel breve andiamo avanti ragazzi su x abbiamo questi la vittoria diciamo di ethereum sopravvive alla sec in sostanza qui abbiamo una vittoria per tutti i pepe naturalmente perché è realizzata sulla ethereum blockchain ethereum sopravvive alla sec oggi siamo lieti di annunciare un'importante vittoria per i sviluppatori di ethereum che la sec non accuserà che le vendite di ethereum siano transazioni di titoli eccetera comunque sia sapere tutto tutti quello che è successo riguardo la sec ethereum in sostanza notizie buone per quanto riguarda ethereum brett ragazzi 0,13 bar 0,14 dollari questo asset ha fatto sognare molte persone perché in un mese è stato capace di totalizzare ad ora un più 177 per cento ma l'abbiamo visto al suo top ovvero allo 0,19 ragazzi nonché oltre mai naturalmente ricordiamo lo 0,19 fare dei gain impressionanti anche se nell'ultima settimana siamo rimasti abbastanza stabili un meno 1,5 per cento all'incirca market cap 59esimo posto e volumi nelle ultime 24 ore diminuiti del meno 36 e per cento stiamo parlando di volumi di 31 milioni e passa di dollari quindi diciamo che è diventata una meme un asset non alquanto stupido ok abbastanza importante ricordiamo non è listata su tutti i checks mancano quelli più naturalmente importanti però by bit gate punto io q coin bit cat bing x comunque se sono importanti anche questi vi lascio i miei link qui sotto andiamo a vedere brett ragazzi ecco l'escalation di brett questo asset che dai minimi ragazzi dai minimi dai minimi possiamo dirlo dai minimi andiamo a prendere qui magari in questa fase di consolidazione ragazzi qui su questa fascia qui ragazzi chi si è posizionato ricordiamolo è un asset che comunque sia è riuscito a fare un più 500 per cento di gain ad ora ragazzi questa escalation di brett che potrebbe tranquillamente continuare al ridosso di un altcoin possibile altcoin season se andiamo a tracciare un supporto dinamico dell'asset possiamo vedere che effettivamente ad ora stiamo su questa questa situazione qui vedete qui c'è stato un bel pump ragazzi in questa fase qui poi ha fatto lo swing qui e ad ora naturalmente la cosa più importante è vedere se riesce a tenere questa questo supporto dinamico importantissimo poi qui abbiamo altre zone naturalmente di supporto importanti che possiamo vedere a colpo d'occhio questa zona qui ragazzi anche questa zona qui ok quindi ad ora molto importante quindi sembra che sta sembra che stia formando una wedge ok quindi in questo momento sembra effettivamente che stia formando diciamo un triangolo quindi vediamo se effettivamente va a lateralizzare qui dentro all'interno di questo triangolo di questa wedge e andare a rompere effettivamente con dei volumi decisi anche perché qui vediamo ragazzi nelle ultime due giornate abbiamo pochissimi volumi ok abbiamo vedete qui come c'è stata proprio c'è stata una compressione forte anche sui volumi quindi in sostanza questo sta significare che l'asset potrebbe rompere molto forte prepotentemente o a ribasso o a rialzo quindi brett molti gain stocastica qui anche forte indecisione negli ultimi due giorni andata a crociare due volte le due medie come ben vediamo qui non c'è dato un segnale chiaro e rsi zona 54 e 70 andiamo a vedere zone di liquidità riguardo brett ne abbiamo ragazzi nelle ultime 24 ore ne abbiamo molta liquidità qui a ribasso allo 0 13 e 12 0 13 e 4 eccetera anche a rialzo abbiamo qualcosina comunque sono più forti a ribasso le zone di liquidità ma shiba inu ragazzi shiba inu ragazzi shiba inu che ci ha fatto veramente abbastanza incazzare questi giorni perché negli ultimi sette giorni nell'ultima settimana ragazzi un meno 13 per cento ed ora come ben vediamo siamo in una fase effettivamente di super lateralizzazione del prezzo in un mese purtroppo shiba inu ha perso più del 30 per cento ad ora nell'ultima nell'ultime 24 ore siamo rimasti invariati perché abbiamo solo un più 0,6 per cento ad adesso comunque sia market cap undicesimo posto come sempre volumi meno 21 per cento andiamo a vedere effettivamente se shiba inu sul grafico andiamo a vedere andiamo a mettere shiba andiamo a vedere che cosa sta combinando ecco qui quello che sta succedendo a shiba ragazzi c'è state dal dalla giornata della rottura del precedente channel quindi parliamo del 7 fino alla giornata di oggi ragazzi quindi due settimane buone abbiamo in sostanza perso tanto abbiamo perso tanto ragazzi meno più 35 per cento e ad ora ragazzi forti fortissime candele di chiusura di indecisione allo stesso tempo abbiamo anche una lateralizzazione importante possiamo dirlo negli ultimi quattro giorni perché anche qui abbiamo una compressione dei volumi ragazzi quindi in sostanza qui ci potrebbe essere un'ulteriore rottura a ribasso cosa che comunque sia non ci aspettiamo perché effettivamente da qui ragazzi dopo ok scendere è un attimo è abbastanza preoccupante la cosa perché già sono asset che hanno perso moltissimo però abbiamo diciamo queste soglie qui di resistenza importanti da risuperare ovvero dello 0,0002 ok stocastica zona di super iper venduto zona 13 croci non c'è dato dei segnali chiari rsi siamo a zona di scarico 2941 quindi ragazzi naturalmente qui data la forte compressione quant'altro se c'è una rottura al rialzo al ribasso naturalmente anche gli indicatori ci vanno a dire che comunque sia siamo in forte zona di iper venduto e c'è la possibilità effettivamente che questi indicatori cambino il trend quindi cambia anche il trend riguardo a shiba naturalmente queste non sono delle delle analisi guardando gli indicatori guardando il prezzo i volumi quindi nessuno però sa effettivamente quello che potrebbe succedere quello che è successo a shiba è stato questo in sostanza tutti si aspettavano qui diciamo una rottura che poi effettivamente c'è stata in questa parte qui ok c'è stata un'effettiva rottura del prezzo che ha fatto totalizzare un più 25% i massimi però effettivamente dopo è crollato diciamo è andato a crollare non tutto il gain che si è fatto qui però effettivamente ragazzi l'asset è crollato abbastanza zone di liquidità riguardo shiba ne abbiamo molte qui a rialzo 0,18 18 è comunque sia ora questi dove stiamo vacillando ora 130 milioni 122 miliardi scusate 130 miliardi eccetera naturalmente l'abbiamo anche a ribasso comunque si sono più forti da zona rialzo shiba ragazzi hanno annunciato un gold sponsor su ivf official che cos'è ivf official è una startup crypto conference in giappone quindi saranno presenti comunque sia come gold sponsor dalle giornate dal 4 al 6 luglio ok su ivs official su kioto ok in giappone notizie importanti riguardo shiba c'è solo questa qui comunque sia possiamo visionare su x tutto quanto andiamo su dogecoin ragazzi anche dogecoin stesso discorso per shiba inu come ben vediamo qui stiamo in forte lateralizzazione di prezzo market cap rimasta invariata naturalmente però negli ultimi sette giorni meno 8 quasi 9 per cento ad ora nel mensile un più meno 26 per cento e oltre e nell'ultima giornata di oggi siamo invariati ok quindi in sostanza più o meno la stessa situazione del shiba inu andiamo a vedere dogecoin andiamo a vedere dogecoin eccoci qua allora andiamo a vedere dogecoin che cosa sta succedendo stessa identica situazione di shiba dalla giornata del 3 maggio dove c'è stato tutto questo questo channel sembra proprio la chart di shiba anche dogecoin naturalmente abbiamo questa situazione qui ragazzi quindi superate queste zone di supporto importanti che non dovevano essere superate ad ora ci troviamo al di sotto di queste zone di supporto però qui la stocastica ci ha dato un segnale nella giornata di mercoledì 19 giugno in buy vediamo se comunque sia riuscirà a reggere questo segnale il prezzo anche qui abbiamo compressione dei volumi forte lateralizzazione anche qui sul giornaliero come possiamo ben vedere come possiamo ben vedere qui anche qui la situazione analoga a quella di shiba inu rsi zone 33.27 quindi siamo quasi la zona di scarico e naturalmente il prezzo ha provato andare ancora più a ribasso molte volte e qui in sostanza è stato rigettato quindi staremo a vedere se effettivamente riuscirà anche doge a tenere queste zone qui ok a tenere queste zone qui a magari andare effettivamente a rompere al rialzo con una possibile altcoin si sono ragazzi cosa che si stanno aspettando un po tutti riguardo zone di liquidità per dogecoin 0,12 e 6 abbiamo 153 miliardi e comunque sia abbiamo queste zone qui nelle zone a ribasso 0,12 e 12 in sostanza anche qui dove stiamo ritracciando effettivamente con il prezzo in queste zone qua detto ciò amici siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere nei commenti la vostra previsione riguardo il mondo delle meme più importanti e detto ciò fatemi sapere anche se c'è qualche progetto meme interessante che è appena partito ex novo comunque sia che sta dando dei gain interessanti che potrebbe essere interessante approfondire come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti detto ciò amici io vi saluto qui ci vediamo al prossimo video ciao a tutti